Cacciati dalle loro case da invasori armati, alcuni rifugiati temprati dovevano affrontare un nuovo inizio, fondando un nuovo villaggio nelle profondità della campagna. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale ed eccoci qui oggi finalmente con Age of Empyre 4. Finalmente torniamo con uno degli RTS più importanti, famosi, conosciuti di sempre. Non vedevo l'ora di poterlo provare, potervelo proporre. Il gioco parte direttamente così, quindi ho messo al volo in pausa in modo tale da poterlo iniziare in compagnia. Iniziamo qualche giorno prima perché il gioco uscirà il 28, tra l'altro sarà disponibile anche compreso con il Game Pass, quindi nel caso approfittatene e ringrazio appunto Microsoft per la key di gioco, per averlo avuto un pochino in anticipo, per poterlo provare e proporvelo insieme. Quello che voglio fare è appunto iniziare sin dall'inizio, dalle prime battute di gioco, per esplorare questo titolo in vostra compagnia perché gli RTS ragazzi sono uno di quei generi, se non il genere da me preferito. È da tanto che non se ne vedono, diciamo, di altissima qualità. Era un po' l'inizio degli anni 2000 quando gli RTS andavano tantissimo e il ritorno di questo Age of Empire era attesissimo, immagino, da tutti. Quindi, signori, buttiamoci subito in game e oggi andiamo con questo primissimo episodio. Mi raccomando voi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare anche questi video, per supportare questa tipologia di video barra giochi, perché, come detto, so che magari sono un po' più di nicchia rispetto al solito, ma veramente ragazzi, se non li avete mai giocati, se non siete avvezzi, diciamo, a questo genere, dategli una possibilità perché vi darà delle soddisfazioni immense. Quindi, riprendiamo e andiamo a vedere. Fonda la tua economia, nuovo obiettivo. Siamo partiti, come detto, direttamente così. Fai clic, naturalmente questa è la parte iniziale di tutorial, che però vi voglio proporre appunto per far vedere un pochino a tutti. Come detto, magari ci sono tanti che non conoscono il genere, che non si sono mai avvicinati a questo tipo di giochi, quindi direi di andarli a vedere sin dall'inizio. Quindi abbiamo qui la nostra interfaccia, che pian piano andremo a scoprire. Qui abbiamo quelli che sono i nostri cittadini, che devono andare, vabbè, giustamente adesso, a andare a raccogliere del cibo. 50 unità di cibo. Poi andremo a vedere, naturalmente, tutte le varie possibilità che ci darà il gioco. Campagna, schermaglie e quant'altro. Però mi piacerebbe vederlo tutto quanto, senza saltare niente, per vedere di pari passo, andando avanti un passo alla volta, quello che è il nuovo Age of Empires, quello che è questo genere di giochi. Ho preferito fare così per il semplice fatto, appunto, che è una tipologia di giochi che oggi purtroppo si vede pochino. Oggi purtroppo si vede pochino e, come detto, sono uno dei miei generi preferiti, se non il mio genere preferito. Questo non significa che io sia un pro, eh? Tra parentesi, vorrei aggiungere. Piccola premessa. Con un'abbondante fonte di cibo, il villaggio poteva iniziare a crescere. Per farlo, servivano più persone per condividere il lavoro. Perfetto, produci altri cinque abitanti del villaggio nel centro città. Questo è il nostro centro città. Poi, al momento, come detto, siamo nella fase iniziale-iniziale, quindi... Qui andiamo a produrre gli abitanti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Possiamo andare a vedere quello che è richiesto. 50 di cibo e 10 secondi per poter fare, per l'appunto, un cittadino. Questo di solito serve per andare a selezionare il punto in cui sono rilasciati i cittadini che vengono prodotti. Qui, di solito, c'è sempre in tutte quelle strutture che rilasciano una determinata unità. Magari non li volete proprio lì davanti, quando inizierà a diventare piuttosto ampio il villaggio, la città, l'accampamento, quello che sarà. Hai degli abitanti del villaggio in attesa? Fai clic con il pulsante sinistro. Ok, qui possiamo selezionare quelli dormienti, come possiamo notare. Andiamoli a selezionare, al momento sono quattro. Il pulsante destro su una risorsa, va bene. Li mettiamo, secondo me, potremmo metterli. Allora, cinque abitanti del villaggio, l'abbiamo fa. La nuova forza lavoro ora poteva prendersi cura delle esigenze del villaggio in crescita. E in primo luogo si doveva costruire un mulino vicino alla fonte di cibo, in modo che gli abitanti potessero depositarvi le bacche raccolte più facilmente. Perché poi, sì, ci saranno delle zone dove era più comodo andare a lasciare senza che tornano qui. Quindi, 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 possiamo andare direttamente nel mulino. Su una risorsa e una costruzione e via di edificazione permette lavoro questo abitante sul villaggio. Vabbè, prima di tutto andiamo a selezionare il mulino. La zona vicino alle cibarie è questa. Naturalmente cerchiamo di andarlo a piazzare... Oddio, qui c'è in realtà una strada, quindi forse sarebbe comodo... Non fare così. Scusate, cittadini, fate una cosa. Andate un attimino qui che diamo anche un'occhiatina se c'è... Vai, voi che state senza far niente, andate qui, datemi un'esplorata in questa zona. Almeno iniziamo a vedere se... Ok. È meglio andarlo a costruire qui un bel mulino. Possiamo scegliere gli altri cittadini e buttarli qui per aiutare nella costruzione. Stessa cosa possiamo fare qui, li mandiamo direttamente in zona. Anche se hanno già finito, vabbè. Poi in automatico vanno a raccogliere risorse anche loro. Perfetto. Il villaggio in crescita aveva bisogno di legname con cui costruire. Beh, sì. Raccogli 50 unità di legname. Andiamo direttamente a portare queste persone nella zona degli alberi. Madonna, signori, che bello tornare in questo genere di giochi. Questi sono quei titoli che ci passi veramente una vita sopra divertendoti. E soprattutto, in questo caso, ragazzi, gli sviluppatori hanno messo particolar cura nel... Perché poi ci sarà naturalmente la campagna con le varie civiltà e quant'altro. È stato posto molto riguardo e attenzione alle varie civiltà, alle proprie culture. Ci saranno anche momenti, diciamo, didattici dove ci spiegheranno un po' di cose. Insomma, è uno di quei titoli che ti fa non solo videogiocare, ma anche apprezzare, comprendere e capire anche delle situazioni. Perché poi, naturalmente, ci saranno anche riprodotte o saremo protagonisti di situazioni storiche realmente accadute. La comunità in crescita ora aveva una fornitura costante di legname. Per facilitare la raccolta del legname, gli abitanti potevano erigere falegnamerie vicino alla foresta. Allora, costruisci una falegnameria. Mentre quelli raccolgono, io a questo punto faccio altri due cittadini. Arriveremo a dieci, che è il massimo per il momento consentito. Una cosa che mi piace, a parte il fatto che è totalmente localizzato in italiano, ma il fatto che ci sia il commento esterno che narra quello che sta accadendo. Come, per l'appunto, noi siamo gli autori di quello che sarà questa storia. Ed è questa una cosa spettacolare. Allora, qui ci sono... Andiamo a dare un'occhiatina per comprendere dove sono effettivamente gli alberi, se ce ne sono tanti o se qua erano quattro alberelli e così. No, ok, di alberi ce ne sono, quindi andiamo a mettere la falegnameria direi direttamente qui. Poi magari voi non andate subito a beccare la legna, perché questi poi partono in automatico, ma me li tengo qui perché mi serviranno. Grazie alla falegnameria, gli abitanti non dovevano più affrontare lunghi viaggi per depositare il legname. Il villaggio ora aveva bisogno di case aggiuntive per sostenere la sua crescente popolazione. Costruisci tre case. Allora, per quanto riguarda le case, io do un'occhiatina da questo lato. Poi vabbè, al momento siamo in fase di tutorial, quindi... Però poi sarà da valutare anche quella che è la gestione degli spazi. Direi che qui ci potremmo anche organizzare, quindi facciamo una... Le facciamo vicine, ma io direi anche di sì. Due... Vabbè, poi comunque proseguiranno... Andando a costruire quelle in corso, se non... Se non erro. Vediamo, se no glielo diciamo noi. No, ok. Proseguono. Ah vedi, ci hanno pure il giardinetto comunque, eh. Vorrei anche dire. Perfetto. Adesso possiamo avere 40 abitanti. Con la costruzione di ulteriori case, sempre più abitanti del villaggio potevano unirsi alla forza lavoro. Ma un villaggio con una tale popolazione avrebbe presto esaurito le fonti di cibo naturali. Per crescere, la comunità aveva bisogno di fattorie specializzate. Perfetto. Tre fattorie. Allora, visto che ne dobbiamo costruire tre, io andrei... Beh, magari vicino al mulino potrebbe essere anche una cosa buona e giusta. Quindi andiamo a portare i nostri due cittadini nella zona del mulino. Diamo un'occhiata, vorrei lasciare questa strada libera da ingombri, diciamo, di costruzioni varie ed eventuali. Quindi magari la andiamo a fare. Ah no, le fattorie, è vero, si fanno qua intorno. Giustamente, la fattoria si va a mettere. Qui è in linea teorica, uno dei cittadini dovrebbe poi rimanere, esatto, a lavorarla. Quindi facciamo direttamente così. E prendo a questo punto uno di questi cittadini che posso dirottare qui, visto che qui comunque, come vedete, hanno finito. Sì, è vero, mi ricordavo il fatto delle fattorie che si facevano intorno al mulino, giustamente. Questi qui hanno finito, quindi, a questo punto, perché non fare un'altra fattoria, giusto che ci siamo. Esplora la natura selvaggia. Allora, in linea teorica... Ok, produce un esploratore nel centro città. Sì, di solito ci sono appunto quelli specializzati dove li dici esplora, proprio andavano in giro per conto loro. Cavalleria poco armata. Naturalmente, questi poi, c'è anche la necessità di stare attenti quando ci saranno altre civiltà, farsi eliminare. Io a questo punto, questi qui, qualcun altro lo utilizzo anche per fare altre... Perfetto. Ci sta. Trova un giacimento d'oro. Allora, con l'esploratore, naturalmente, abbiamo la possibilità di muoverci molto più velocemente rispetto ai contadini che per il momento lascio lì. Non so se c'è la possibilità di farlo andare in esplorazione in modo automatico. Questo è da vedere, però al momento... Guarnigione... Entrare nella costruzione del... No, questo ok, giustamente se abbiamo... Al momento siamo nella parte bassa della mappa. Signori, come detto, quanti di voi, magari, stanno aspettando questo Age of Empires? E quanti, negli anni d'oro, ormai, degli RTS si sono infognati tantissimo in questo genere di titoli? Io mi ricordo, vabbè, naturalmente, i vecchi Age of Empires, che tra l'altro... Eccolo qui loro. Nell'ultimo periodo hanno anche rifatto in HD gli Age of Empires, le Definitive Edition. Per evitare di dover trasportare minerali su lunghe distanze, le comunità in espansione dovevano stabilire un'area mineraria vicino al giacimento d'oro. Costruisci un'area mineraria vicino a un giacimento, giustamente anche in questo caso, per non dover riportare quelle che sono le risorse nel centro città, altrimenti è un po' troppo lunga come cosa. Allora, tu se vuoi puoi anche continuare, non so se... Troppi alberi, eh, va bene, va bene. Mi piace comunque tanto il fatto della... anche della narrazione di quello che sta accadendo. E... vai, mandiamo i nostri cittadini a recuperare... Un'area mineraria ben posizionata garantiva un'efficiente estrazione dell'oro. Ok, altre 50 unità d'oro... Beh, immagino che due persone potrebbero anche andar bene, per quanto... Visto che possiamo avere 40 abitanti, può andar meglio anche così. Ehm... Fatemi sapere anche nei commenti se vi può garbare l'idea di vederlo passo passo, se volete andare a vedere direttamente le campagne. Però a me piacerebbe farvi esplorare insieme a me quello che è anche la fase iniziale, la fase istruttiva, diciamo, del titolo. Dove naturalmente, sì, ci spiegherà queste cose base che già conosciamo per chi ha giocato gli RTS. Ma vorrei far video... Avanza all'età feudale. Mi piacerebbe appunto fare video anche per chi magari non ha mai giocato questa tipologia. Costruisci un luogo storico. Perfetto, quindi per arrivare all'età feudale qui non... Non cambia niente, quindi andiamo a prendere... Eccolo qua. Avanza all'età feudale. Selezione costruisci un luogo storico dell'Alto Medioevo. Naturalmente, come vedete, ci sono delle risorse da dover utilizzare per... Ehm... Costruire determinate cose. Una cosa che mi piace è il fatto anche che non solo c'è scritto quante risorse abbiamo, ma anche quante persone sono addette a quel tipo di risorsa. Questa è una cosa molto utile per tener d'occhio, diciamo, quello che stiamo facendo e se c'è uno scompenso, nel senso se abbiamo poche persone a fare un determinato lavoro o tante a farne un altro. E ti dice anche al minuto quanti ne produci. Quindi 130 di oro, 130 di legname e 260 di cibo. Quindi a livello di cibo siamo messi anche abbastanza bene, perché ne abbiamo fatta effettivamente qualcuna in più. Però va bene. Comunque, andiamo a vedere. Abbazia dei Re guarisce le unità vicine che non sono in combattimento di due punti ogni secondo e mezzo. Perfetto. Allora, andiamo a scegliere... Immagino... Ah no, ok, Abbazia dei Re. Devo cliccare... Bellissima. Dove la facciamo, l'abbazia? Io la farei quasi qui. Prima di arrivare in città. Allora, un attimo che vado a fare un altro paio di abitanti. Qui l'esploratore credo che sia arrivato appunto a quelli che sono i confini. Anche perché qui la boscaglia sembra essere abbastanza... Abbastanza fitta. Quindi non può andare oltre. E... Dicevo, mi piacerebbe far video anche perché non è avvezzo al genere. A parte che io anche mi rispolvero tutto e soprattutto mi godo questa nuova esperienza di... Questo nuovo capitolo. Allora, qua ci vuole un po' di più a costruirla. Quindi anche voi date una manina per costruire l'abbazia. E sono curioso anche di vedere a livello storico com'è strutturata, che periodi ci andrà... Dovrebbero essere 500 anni di storia, di battaglie, di lotte che avremo a disposizione. Ok, qua ci tiene anche d'occhio quella che è la situazione. Ok, inizia una nuova era. Vedete che è... Cambia un po' tutto. Impara a usare i lancieri. Nuovo obiettivo. Perfetto. Ok. Allora, alloggiamenti per la fanteria possiamo costruirli con questi qui. Qui facciamo... Ah, ok. No, apparentemente non c'è niente. Quindi la fanteria. Allora, a livello di difesa potremmo anche piazzarla un pochino... Anche dietro le difese non sarebbe male, eh. Quindi andiamola a piazzare qui. Intanto recuperiamo il tipo che comunque ci sta esplorando. Vedete, quando si passa di epoca cambia anche la costruzione. Per volare un esercito permanente. Delle semplici unità di panteria armate di lance erano una scelta comune per queste milizie. Perfetto. Dieci lancieri. Anche qui andiamo a selezionare. Li metto un po' più in qua, altrimenti mi si piantano tutti lì. E dieci lancieri sono fatti. Questo continuiamo a farlo andare in giro. Qui naturalmente abbiamo trovato un po' di cibari. Che però queste qui sono... Insomma, finiscono abbastanza facilmente. Quindi è giusto farsi una bella fattoria che ci possa dare una maggior disponibilità di cibo. Anche le musiche sono spettacolari. No, ragazzi, io, come detto, questi giochi... Non lo so, mi ricordano il periodo in cui ce n'erano tanti, ne giocavo tanti. E ci ho passato veramente le ore anche in compagnia, in cooperativa con gli amici, a creare villaggi, a lottare in battaglie epiche. Come detto, è un genere a cui sono particolarmente affezionato, nonostante, come detto, non sia un particolare esperto. Semplicemente da giocatore. Semplice, era uno di quei generi che apprezzavo tantissimo. E per me il ritorno di questo Age of Empires è graditissimo, graditissimo. Allora, qui abbiamo trovato un muro, non sappiamo di chi, ma comunque siamo riusciti a esplorare un pochino il tutto. Immagino che adesso i lanceri ci daranno una mano anche sotto questo punto di vista. E poteva tentare di reclamare le terre perse nell'invasione. Palizzata nemica! I invasori avevano bloccato la strada verso nord con una robusta palizzata. Eccola, ok. Sebbene le lance fossero poco utili contro queste mura, la milizia poteva bruciare questi ostacoli con delle torce. Distruggi la palizzata. Allora, portiamoli qui sopra. Non so se ci sia ancora. Una volta si poteva fare... Sì. Perché con il pulsante 1 e premio... Ok, con il classico control più i numerini per poter andare a selezionare le varie, vari gruppi. Quindi poi ripremi uno e li selezioni al volo. Era utile per tenere sotto controllo un po' le varie milizie quando ne avevi veramente tante. Ma anche i cittadini. In realtà, anche i cittadini erano... Era comodo farli in gruppi che si occupavano di determinate cose. Ci avevano chiuso dentro, praticamente. Siamo i reglietti della situazione. Dai che ce la fate. Qua ci voleva... Qualche ariete, eh. Poi ci saranno... Appunto, loro non sono adatti a fare questa cosa. Ci sono gli arieti, le... Catapulte, insomma, che si occupano più di questa. Sì, magari andiamo a dare un'occhiatina anche qui sopra. Ah no, adesso... I lancieri dovettero fare i conti con una singola sentinella. Ok, e fino a qua ci siamo. Allora, in automatico li vanno ad eliminare, oppure possiamo andare appunto a premere questo e selezionare la zona, magari. Perfetto. Avanzando aggressivamente, la milizia eliminò la sentinella nemica. In realtà diverse sentinelle, ma va bene. Aia. Accampamento della cavalleria. Accampamento di cavalleria a guardia della strada. Ma la milizia era pronta ad attaccare. Sì. No, pronti siamo pronti, signori. Poi... Bisogna vedere i risultati, ma... Daglie! Sono sei loro, eh. Quindi, tutto sommato... Si potrebbe anche fare. Ok. Ok, i nostri sono... In ottima superiorità numerica. Ne abbiamo perso uno. Poi iniziano a dar... Con quale violenza? Le lance furono molto efficaci contro la cavalleria, permettendo alla milizia di avere la meglio. Dove va quello lì? Tutto ciò che restava da fare era distruggere le scuderie degli invasori. Anche voi, giovani. Che sta da fare? Dai, eh. Ok, e le cavallerie le abbiamo eliminate. Bravi tutti. Vabbè, quello intanto sta facendo. L'accampamento di cavalleria degli invasori fu distrutto, ma più avanti erano ancora presenti altre postazioni nemiche. Degli arcieri ostili erano a difesa del campo successivo, e ciò sarebbe stato uno svantaggio per i lanceri. Gli arcieri sì, sono pericolosi. Attacca l'accampamento degli arcieri nemici. Allora... Ha bisogno di una propria cavalleria per affrontare questo problema, e quindi doveva costruire delle scuderie. Per dispiegare rapidamente quella cavalleria, la città aveva bisogno di costruire le scuderie vicino al fronte. Ah, va bene. Costruisci due scuderie nell'area designa... Ah, ma... Un po' troppo vicino al fronte, azzarderei. Però va bene. Alcuni abitanti amichevoli uscirono dai loro nascondigli per dare una mano. Ah, ok. Almeno non dobbiamo far arrivare quelli dalla nostra zona. Cosa che eravamo pronti a fare, naturalmente. Qui abbiamo appunto le scuderie, iniziamo allora a farle costruire in zona. Nel mentre questi li mettiamo... Va bene. Bisogna una capacità di popolazione maggiore. Fai clicco nel pulsante... Ah, ok, è vero. È perché io nel mentre mi sono costruito un'altra badillata di questi. Quindi andiamo a fare qualche altra casetta qui dietro. Nel mentre, giustamente, ci sta. Questi qui li vado a selezionare. Sono sempre dieci e facciamo gruppo due. Oh, io nel dubbio questi me li porto comunque. Magari li andiamo a piazzare qui al confine, qualora ci tornassero utili. Poi andiamo a fare una... Ah, ok. No, questi si fomentano. Facciamo un'altra di queste. Questi eventualmente li facciamo uscire qua. Una volta fatto. Qui... Vabbè, questi li facciamo... Continuare. Allora, 39 su 50. Guarda. Le scuderie, la città poteva ora schierare dei propri soldati a cavallo. Ok. Allora. Andiamo a fare questi qua. Magari li mettiamo un po' qui indietro. Questo ce l'abbiamo. Questo uguale. Facciamo... Anzi, mettiamoli insieme in modo tale da fare comunque gruppi uniti. E quanti ne devo fare? A piacere? A piacere? Uno, due, tre, quattro, cinque... E cinque qua. Perfetto. Qui le casupole. Io magari un'altra la faccio. Tanto comunque... Togliamo i giardini a quelli ma se lo fanno dietro il giardino, dai. Almeno stiamo un attimino parati. E una cosa che converrebbe sempre fare è quella di prendere l'esploratore e fargli andare... A dare un'occhiata perché giustamente deve esplorare, deve capire un pochino come sono messi i nemici. Per quanto il problema potrebbe essere che una volta che lo vedono lo seguono e quindi rischi di riportarteli a casa. A volte è meglio sacrificare l'esploratore piuttosto che farlo ritornare nella tua città dove ti porta appunto i nemici che lo loccano e se lo seguono con cattiveria. Ok. Ah ok, doppio click. Vabbè, è uguale, dai. Abbiamo fatto. Sì, vabbè, così facciamo direttamente. 15 soldati a cavallo. Sì, ne avevo fatti 10 in realtà. E questi me li porto qua. Comunque l'esploratore... Beh, io immagino che qua ci sia della cattiveria. Noi nel dubbio diamo un'occhiata pure qua. Ma immagino che lì sia la parte un po' più pericolosa. Allora, come siamo messi? Quanti ne abbiamo qui? 14, 1. Me ne manca. A posto. Selezioniamoli con il 3. Ci abbiamo bezzati, no? Ora la città aveva una cavalleria leggera rapida, abile nel prendere di mira i bersagli più lenti, come gli arcieri. Ok. Elimina gli arcieri delle mie... Guarda come arrivano prepotenti a cavallo. Allora, andiamo subito... Diamo un'occhiatina anche qua come stanno messi. Accampamento degli arcieri. Vabbè, poi lo andiamo ad eliminare, ma per il momento... Occupiamoci degli arcieri. Perché naturalmente ogni... Tipologia militare... Ha dei bonus e dei malus contro determinati altri. Quindi bisogna... Destreggiarsi bene. Allora, distruggete questo. Vai. Tra di tutti. Allora, facendo due click qua. Io mi porto pure questi. Che comunque possono tornarci utili. Perfetto. Gli arcieri degli invasori e il loro accampamento vennero distrutti. Rimaneva un'ultima posizione nemica. Fortificata con palizzate e difesa da lanceri. Attacca l'accampamento della fanteria nemica. Per eliminare quel bersaglio, la città aveva bisogno di arcieri con arco lungo. Per prima cosa, si dovevano costruire aree di tiro con l'arco, nella zona riconquistata dagli invasori. Sempre qui? Mi dai qualche altro cittadino abusivo? Me lo porto da... Hai dei nuovi abitanti nel villaggio. Ancora una volta. Alcuni abitanti amichevoli offrirono i ruoli. Grandissimi. Allora, andiamo noi con gli arcieri. Quanti ne dobbiamo fare? Tre aree di tiro? Ah, però... Allora, uno... Due... E poi... Vabbè, la terza me la puoi costruire qua. Vabbè, in realtà me la puoi piazzare anche qui. Poi le selezioniamo tutte e le piazziamo da un'altra parte. Voi magari andate un attimino qua, che se no me impallo... Quelli dovrebbero stare qui sopra, se non sbaglio. Mi sembrava che avesse indicato... Questa zona superiore. Allora, ragazzi, non vedo l'ora di infognarmi tantissimo con questo gioco e spero che possa essere di vostro interesse vedere l'infogn... Guarda come danno fuoco anche loro a... Preparate le aree di tiro con l'arco. La città poteva ora aggiungere arcieri con arco lungo alle sue forze. Ok, produci 20 arcieri. Anche qui posso selezionarle tutte e tre. Perfetto. Allora, le piazzo tutti qua. E 20... Eh no, 20 non ce la faccio. Vabbè, intanto facciamo una cosa, scusate. E iniziamo ad avere un bel po' di... personale. Quindi è meglio che mi costruite un bel po' di case. Facciamo così, tanto questi poi sono veloci a farle le altre. Perfetto. Allora, vai con gli arcieri. Selezioniamole tutte. Ok, gli arcieri fatti. Stanno lì sopra. Vediamo. Con un possente esercito di arcieri poteva eliminare i lancieri nemici a distanza, purché posizionato correttamente. Mmm, qua sopra la vedo bene. Esatto. Posizione agli arcieri con arco lungo sulla cima del dirupo. Beh, poi c'è da... Signori, per favore, per favore, state calmi. State calmi. Ehm... Vogliamo andare sulla cima di questo dirupo? Se andiamo a selezionare direttamente così, in linea teorica dovrebbero... Trovarsi anche loro la strada. Ah, prima non ci faceva passare, forse perché era... Non si poteva ancora. Vabbè, questi comunque me li porto, eh. Guarda lì come sono aggressivi. Posizione agli arcieri con l'arco lungo, va bene, è fatto. Da qui proviamo a... Stati in cima a un dirupo. Gli arcieri con arco lungo sarebbero stati al sicuro dalle cariche di panteria. Ok, attacca. Vai. Arcieri. Bravi tutti. Magari, 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 magari... Gli altri... A cavallo... Ah, no, forse riescono ad eliminarli prima che arrivano, proprio. Più o meno, più o meno. Sì, potevamo usare gli altri per tenerli buoni, ma va bene, dai. Bravi tutti. Gli ultimi invasori caddero per mano della popolazione locale in sorta. Ora che le loro terre erano libere da ninci, il villaggio poteva fare il passo successivo nella sua crescita. E diventare una potente città medievale. Avanza all'età dei castelli. Vabbè, voi intanto fate quello che potete fare qua. Anche in questo caso, la creazione di un luogo storico avrebbe simboleggiato questa crescita. Costruisci un secondo luogo storico. Allora, andiamo con le nostre cittadine. Terza zona, la torre bianca. Funge da fortezza con tutti i relativi comportamenti, le tecnologie. E i bonus. Bella, bella. La torre bianca dove la mettiamo? Ma dipende qua se ci riusciamo a difendere bene. Perché magari metterla un po' più nell'entroterra. Anche perché effetto difensivo è cosa buona e giusta inserirci nell'area anche centro-città. Ok. Ce l'abbiamo fatta, signori. C'era un villaggio creato da semplici rifugiati. Ora sorgeva una possente città. Possente è una parola grossa. Da lì sarebbe nato un impero. Ok. E questo era proprio l'intro-intro. Cioè prima di entrare nel menu di gioco. Perché giustamente ti fa capire un po' com'è. Com'è. Alcune cose da vedere un pochino. Ti presentiamo alcune nuove ed emozionanti meccaniche di Age of Empires 4. Vi faccio vedere tutto perché voglio mostrarvi appunto le possibilità che offre questo gioco. Non importa se sei un giocatore di vecchia data di Age of Empires o se sei nuovo o arrivato. Trarrai comunque beneficio dall'imparare le basi del gioco completando le missioni della campagna normanna o le sfide arte della guerra. Quindi abbiamo impara a giocare Age of Empires 4, completa 5 missioni della campagna normanna. Oppure l'arte della guerra, esplora le strategie e metti alla prova le tue abilità. Perfetto. Quindi possiamo selezionare una delle due direttamente. Scusa, se io vado alla campagna... No, non vorrei che partisse a secco così. No, ma che spettacolo. Nel 1066 Guglielmo di Normandia decise di strappare il regno d'Inghilterra al suo rivale anglosassone. Solo un uomo poteva essere re. Ok, quindi questa è quella dei normanni. Poi c'è la guerra dei cent'anni, l'impero mongolo, l'ascesa di Mosca. Allora, andiamo a vedere un attimino le proposte. L'arte della guerra era quello sempre a livello di tutorial, diciamo così. La vita nei villaggi era il cuore pulsante di qualsiasi impero. Impara a costruire un luogo storico e passare dall'alto medioevo all'età feudale. Naturalmente c'è anche il record, quindi. Economia avanzata, combattimento di base, assedio avanzato e assedio anticipato. Allora, queste qui vediamo un attimino perché, naturalmente la classica schermaglia, signori, che spettacolo. Quante ore passate a fare schermaglie con gli amici, molto bene. Probabilmente si potrebbe partire direttamente dalla prima campagna che, come ci ha detto, ci fa anche un pochino da tutorial. Sì, penso che si possa fare direttamente qui. Poi magari l'arte della guerra, ditemi anche voi. Io a provare le vorrei comunque provare queste qui. Non so se andare a fare un po' lì, un po' dall'altro lato, un po' di campagna, un po' di addestramento con le varie sfide. Perché, personalmente, me lo vorrei vedere un po' tutto. Anche per questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra, se magari queste non mi interessano, non vi posto niente al riguardo e facciamo solo le campagne. Insomma, ditemi anche la vostra. Però, sono voluto partire, scusate, con questo primissimo episodio, direttamente dall'avvio del gioco. Perché Age of Empires 4, onestamente, vorrei giocarmelo un po' come ai vecchi tempi. Tornare un pochino ai tempi dei vari RTS, dove mi ci chiudevo come se non ci fossero domani. E allo stesso tempo vorrei proporvi questa esperienza, partendo appunto dalle minime basi, da questa che è stata l'introduzione. Anche, come detto, visto che è un genere che non va da tanto, non si vedevano appunto titoli di questo calibro. Ci possono essere tranquillamente tantissime persone che non si sono mai avvicinati a questo genere. Quindi, partire dall'inizio e non andare direttamente a fare una mega battaglia, dove poi effettivamente vi siete persi magari o delle basi, o comunque i meccanismi appunto basilari degli RTS, mi dispiacerebbe. Quindi vorrei per l'appunto farvi vedere un po' tutto. Questo era il primissimo appuntamento. Aspettatevene tanti altri, sperando appunto di avere un supporto da parte vostra, anche per quanto riguarda queste chicche, questi titoli, sì che probabilmente al momento sono un po' più di nicchia, ma neanche tanto, perché Age of Empires 4 è tanta roba. Lo trovate, come detto, anche al Day 1, il 28, con il Game Pass, quindi approfittatene. Fatemi sapere, ragazzi, fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, seguitevi anche sull'altro sito delle live, dove può essere che ci esce qualcosina, anche con Age of Empires, qualche mega schermagliona, la possiamo anche fare lì, secondo canale, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, un saluto a tutti da Quel Taleale.